Il giornalista è Cicchinelli, un viaggio inaspettato tra vicende di Camorra e per l'umanità. La storia narra di un uomo nato povero in una famiglia numerosa e desideroso di riscatto negli anni delle guerre di Camorra, in cui si ritrova a combattere una guerra non sua e tutto a causa di un paio di scatti. E ora, come ogni domenica, la nostra rubrica di sport. In studio c'è Stefano.